Mentre si parla della formazione di domani, di questo parleremo però domani mattina perché le ultime voci continuano a insistere sulle out titolare al centro dell'attacco e un'auge titolare a sinistra, cosa che tra l'altro avrebbe pienamente senso nell'ottica di quello che dicevamo ieri, cioè del fatto che Sassuolo è una squadra che gioca il pallone e quindi offre maggiori spazi alle spalle dei difensori e maggiore possibilità di attaccarli in questo modo e quindi diciamo vulgaris di andare in contropiede, mentre dicevo si parla della formazione di domani io oggi devo fare un appello, devo farlo rivolto a una delle gambe del progetto, le famose gambe del progetto Milano e cioè Stefano Pioni, in questo momento dove c'è stato il colpo da assorbire relativo all'infortunità di Zadatta di Ibrahimovic, in questo momento dove siamo un po' a corto di energie, in questo momento dove diciamo abbiamo qualche assenza che pesa come quella difensiva, ecco che l'appello che voglio rivolgere è al nostro allenatore, in questo momento l'apporto del mister sarà fondamentale, sarà fondamentale perché come tutto il Milan sta facendo un passaggio verso l'alto per cercare di diventare di nuovo una grande squadra, una squadra competitiva, ecco che anche il mister dovrà dimostrare di essere in grado di fare questo passaggio, di fare questo salto per meritarsi diciamo sempre di più una panchina importante e prestigiosa e che ha voglia di competere come quella del Milan. Il nostro allenatore, il mister Piori, dovrà essere molto bravo a tutire il colpo dell'infortunio di Ibra, dovrà essere bravo a mantenere il gruppo sempre sulla giusta tensione, sempre con la stessa voglia di primeggiare, la stessa voglia di raggiungere un obiettivo ambizioso e per raggiungere un obiettivo ambizioso è necessario essere ambiziosi, è necessario mantenere tutti sullo stesso livello e soprattutto cercare di trasferire ai ragazzi quella sicurezza, quella tranquillità e anche quel piacere di giocare che non deve mai mancare che fino adesso abbiamo visto il Milan. Le prossime due partite saranno due partite essenziali direi per capire quale potrà essere il nostro proseguo in stagione, soprattutto alla luce degli ultimi avvenimenti e poi dopo entreremo anche nel mese del mercato, che qualcosa porterà ma forse non tutto quello che i tifosi vorrebbero naturalmente a ragione veduta, nel senso che ciascuno di noi vorrebbe avere la possibilità di acquistare dei campioni, rinforzare la squadra e continuare ad essere in questa posizione che tanto ci piace, perché essere primo in classifica è bello, essere primo in classifica ci consente di guardare anche le partite delle avversarie con un occhio diverso, con maggiore interesse, però per rimanere lì ci sarà bisogno di tanto, fino adesso abbiamo avuto tanto dai ragazzi e tanto dovranno dare nelle prossime gare, quindi faccio un appello al nostro mister affinché riesca davvero anche lui a fare il definitivo salto verso la consacrazione a grande allenatore. Poi è chiaro che il salto definitivo lo si farà nel caso in cui si porteranno a casa dei trofei, perché sappiamo che la bacheca alla fine è quella che disegna anche un po' la carriera di un allenatore, per questo motivo per ora chiedo al mister davvero questa cosa, chiedo al mister di fare lui la gamba in mezza, visto che una è venuta meno e lui dovrà sopperire anche questa mancanza. Poi naturalmente il mister potrà sfruttare quella che è la serietà, la professionalità, l'ambizione di Zlatan Ibrahimovic anche fuori dal campo, perché comunque Ibra l'abbiamo visto sempre con la squadra, l'abbiamo visto sempre vicino alla panchina, ad aiutare, anche solo con la sua presenza in cute, diciamo timore in un certo senso e voglia di fare e trasferisce la voglia di fare l'ambizione ai ragazzi, per cui il mister dovrà sfruttare anche un Ibra che non potrà essere in campo, non potrà dare il suo contributo sul terreno di gioco, ma potrà farlo comunque al di fuori. Questi ragazzi si sa quanto abbiano bisogno anche, diciamo un po' come tutti i giovani, ecco perché non è che tutti i giovani sono dei seri professionisti ambiziosi, qualcuno ha anche bisogno ogni tanto di essere corretto e ha bisogno di ricevere una strigliata, in questo senso appunto il lavoro che possono fare Ibrahimovic e Pioli col suo staff è un lavoro importante, è un lavoro di mantenimento dell'alta tensione, che è una cosa che servirà anche nella gara di domani. Io ripeto, non sono particolarmente triste, non sono particolarmente agitato per la partita di domani, ero molto più nervoso prima della gara con il Genoa, rispetto a domani mi aspetto qualsiasi risultato, domani è una partita chiaramente da tripla, possiamo vincere così come possiamo perdere, ma in ogni caso non farò una tragedia, ovviamente andrò ad analizzare i dettagli, ma non ne farò una tragedia proprio perché so che questo Milan ci sta dando grandi soddisfazioni e sta costruendo qualcosa di importante e di ambizioso per il futuro. A proposito del futuro ci leghiamo al secondo tema del video, c'è il tema della difesa. Come dicevo ieri, ben più grave secondo me in questo momento sarà l'assenza di Simon Kier e ben più grave fino a questo momento è stata l'assenza di Simon Kier, un leader difensivo, un giocatore sul quale pochi avrebbero scommesso, che è stato visto con un occhio un po' strano nel momento in cui è arrivato al Milan, tutti pensavamo che fosse uno scambio numerico per avere un difensore in più rosa, invece poi alla fine si è rivelato un grandissimo giocatore e un difensore soprattutto di grande esperienza, è capace di guidare la difesa e di aiutare molto i suoi compagni, sia il portiere, sia i difensori, sia i centrocampisti, cioè la presenza di Kier garantisce tranquillità in tutta quella zona di campo che va dal nostro portiere, quindi da Donnarum fino a che si tonali o che si benasserva, secondo di chi gioca. Quindi la figura di Kier è importante anche in questo senso, la sua perdita in questo momento, la sua mancanza in questo momento, secondo me è più grave di quella di Ibra, perché se è vero che in attacco non abbiamo problemi a segnare, poi dopo che gli ultimi gol siano arrivati tutti da difensori, ma comunque creiamo occasioni da gol, siamo presenti in area, l'ha detto anche il mister oggi in conferenza stampa, il mister che tra l'altro ha parlato in maniera abbastanza vaga della possibilità del Milan di intervenire sul mercato nella prossima sessione, ma questo è anche logico, sappiamo come opera il Milan e sappiamo come poi questa capacità e volontà di lavorare sotto traccia venga trasferita anche come modus operandi a tutti i dipendenti della squadra rossonera. Quindi si parla il giusto e non ci si sbilancia mai, anche perché adesso andare a parlare di sì, abbiamo bisogno effettivamente di andare sul mercato a prendere un centravanti, prima cosa 15% di prezzo in più per qualsiasi trattativa, volendo acquistare qualcuno, oppure come dire condizioni particolari nel caso del prestito, insomma è meglio stare zitti e lavorare. Per il discorso della difesa però, il discorso della difesa è un discorso più delicato, un discorso più delicato perché innanzitutto, diciamo, con Kier, anzi senza Kier abbiamo preso cinque gol nelle ultime tre partite mi pare, con Kier sicuramente la cosa migliora e migliorata dal punto di vista statistico, anche con Kier prendevamo diciamo sempre quel gol che forse poteva anche non esserci, ma l'apporto del danese è un apporto, come dicevo, soprattutto di personalità, di esperienza anche perché in difesa serve anche avere esperienza. Allora mi rifaccio ai discorsi di mercato perché se noi adesso decidessimo di fare una scelta radicale e quindi di andare a investire su un Simacan, che comunque si parla di 18-20 milioni di euro, è evidente che sarebbe un investimento per il futuro in prospettiva di un giocatore che diventerà, o per meglio dire, nell'idea della dirigenza, dovrà diventare titolare al Milan. Ed ecco che in questo senso, a mio avviso, Maldini, Massara e tutto lo staff, Moncada e quant'altro, si trovano di fronte ad una scelta importante. La scelta innanzitutto è quella relativa al reparto, quindi dove andare a investire. Sappiamo benissimo che in questo momento per problemi strutturali noi avremo bisogno di un innesto in difesa, anche perché Musacchio si è parlato addirittura di rescissione contrattuale oggi, avremo bisogno di un innesto al centrocampo e poi avremo bisogno appunto di un innesto in attacco. Ma se per l'attacco, vi dicevo, trovare un sostituto all'altezza di Ibra, voi mi avete fatto tanti nomi, ma diciamo non all'altezza di Ibra, un centravanti con caratteristiche da centravanti vero è molto difficile, perché se prendi un giovane, tanti hanno fatto un nome in scamacca. Vero, anche a me piace, in prospettiva può diventare un ottimo attaccante, però bisogna vedere se è capace, nel momento in cui viene chiamato in causa, di fare un certo tipo di gioco con la squadra, perché poi, attenzione, il nostro 4-2-3-1 non è un 4-2-3-1 che prevede il centravantone, è un 4-2-3-1 che prevede un riferimento offensivo di movimento, di tecnica, di dialogo con gli altri, come è Zlatan Ibraimovic. E come fa, da un punto di vista di aggressività, da un punto di vista di tecnica e da un punto di vista di associazione con gli altri compagni di reparto, Anterebic, che io preferisco sempre a Leao nel ruolo di centravanti, tra l'altro pari che domani giocherà a Leao, come vi dicevo. Se per l'attacco il discorso è complicato, per la difesa lo è altrettanto, perché? Perché andare a prendere un giovane ragazzo adesso può essere numericamente un innesto giusto, fai un investimento per il futuro, sostituisci numericamente Musacchio che esce e piano piano fai crescere questo ragazzo che può diventare alternativa a Kier, perché di questo si sta parlando, perché Romagnoli è capitano e titolare, l'alternativa a Kier, oppure decidi di prendere un prestito, di prendere qualcuno solo numericamente per sostituire Musacchio. Però la questione è che tu adesso ti ritrovi un Kalulu, che ha dato dei segnali incoraggianti di poter diventare lavorando un difensore centrale serio, un difensore centrale che può lottare per un posto da titolare al Milan. Poi hai un Gabbia, che comunque è un prodotto del tuo bivaio, che stai cercando di far crescere, l'abbiamo visto che ha ricevuto fiducia, così come ha ricevuto fiducia a Kalulu in queste ultime partite, e lì vale lo stesso discorso che abbiamo fatto ieri per Rebic e per Leao. Allora tu prendi un difensore, lo metti in rosa, gli assegni in un certo senso, oppure la stampa, che tanto vale uguale, pesa allo stesso modo, gli assegna il ruolo di nuovo titolare al Milan, e a quel punto cominciano a crearsi delle situazioni. Kalulu, cosa fai di Kalulu? Di Gabbia che cosa fai? Quando rientreranno tutti? Perché questi sono anche equilibri delicati che vanno un attimo pensati, e si deve ragionare in questo senso quando si vanno ad acquistare dei giocatori. Secondo me l'unico ruolo, l'unica zona di campo dove veramente non si andrebbe a far danni è a centrocampo, prendendo un'alternativa a Frankissi, quindi un giocatore forte fisicamente, un giocatore che sappia un po' coprire tante zone di campo, che sappia fare quel lavoro, magari con piedi meno raffinati di quelli che Frank sta sviluppando, però in ogni caso lì piuttosto servirebbe un intervento. L'attacco e la difesa sono due repatti che in questo momento, per come è strutturato il Milan, sono difficili da integrare, questa è la verità. Quindi la domanda di un amico del canale che mi ha chiesto se in difesa andrei più su un giovane oppure su un giocatore esperto, se la questione è numerica, e quindi dobbiamo sostituire Musacchio che esce, prenderei un giocatore esperto in prestito per tenerlo lì e alla bisogna utilizzarlo. Ma è sempre il stesso discorso. Dove trovarlo? Che tipo di operazione fare? Viene per sei mesi? È realmente utile, visto che ci sono Calulu e Gabbia, al netto dell'infortunio di Gabbia? Cioè capite bene che purtroppo emergono dei difetti, ripeto, strutturali da un punto di vista di composizione della rosa, che erano evidenti, ma sono aggravati da tutta questa serie di infortuni, perché se si dovesse far male che sì, dico un esempio, o dovesse essere anche squalificato, cioè ci troviamo con un grosso problema adesso, perché se che sì domani prende un cartellino giallo, ci ritroviamo con Tonali e con Krunic in un centrocampo a due. Come si fa a fare un centrocampo a due con Tonali e Krunic? Allora a quel punto devi arretrare Cialanoglu in mediana e allora a quel punto devi fare fare il trequartista Brahim Dias, che abbiamo visto avere caratteristiche totalmente diverse rispetto al turco, ecco che cominciano a emergere un pochino i problemi di una rosa che forse volontariamente, perché le cose sono andate bene e hanno continuato ad andare bene, forse perché si aspetta magari gennaio per ufficializzare magari qualche affare che si era già più o meno chiuso la scorsa estate, forse, 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 per tutta una serie di motivi, però adesso siamo un attimo alla prova del 9. Dobbiamo capire quale direzione vuole prendere la dirigenza sul mercato, quale forza di investimento ci potrà essere messa a disposizione, perché, ripeto, dovrà essere fatto un lavoro estremamente delicato in questi reparti per evitare di abbattere, da un punto di vista psicologico, i giovani che stiamo cercando di far crescere, visto che la direzione del progetto è questa, di far crescere i giovani, però integrandoli con dei giocatori, come è sottolineato di nuovo il mister oggi, in linea con la politica aziendale, con dei giocatori che possano apportare qualcosa di più in rosa. E allora la grande questione è questa. Se, diciamo, sul piatto ci fosse il nome di... è chiaro che non potrà essere, ma la butto lì, no? Se, diciamo, Jerome Boateng fosse un nome spendibile per il Milan, cosa che non lo è, perché sappiamo l'ingaggio e tutto quanto, e anche, diciamo, l'infortunio, lo storico, la cartella clinica di Boateng è abbastanza varia e lunga, ma, diciamo, un nome così, allora un nome così potrebbe avere un senso, perché comunque è un giocatore pronto, fatto di esperienze e quant'altro, Kier si fa male, tu lo metti dentro, sai che comunque la prestazione te la dà. Ma se tu devi prendere Simacani, investire 20 milioni di euro, per un ragazzo talentuoso, indubbiamente, ma che potrebbe, in prospettiva, anche essere, diciamo, come Calulu, no? Potrebbe essere anche come Calulu. Ecco che a quel punto, scusate, è stata figa la luce, ecco che a quel punto ci sono considerazioni da fare se vale la pena spendere quei soldi in quella zona, oppure spenderli altrove, dove è più facile inserire un giocatore, mi riferisco al centrocampo, e cercare di andare avanti così lungo la stagione. Io credo che tutte queste valutazioni siano già state fatte dalla nostra diligenza, la quale aveva ben chiaro che Ibrahimovic avrebbe potuto infortunarsi, Kier avrebbe potuto infortunarsi, che con un centrocampo a due avere il solo Tonali come riserva e un Krunic, che diciamo non è un giocatore che può fare il titolare al Milan, nemmeno in caso di emergenza, è stata un'opzione valutata, una situazione valutata, e adesso vedremo che cosa succede nel mercato di gennaio. Noi ci sentiamo domani, prima della partita, per commentarla, e poi naturalmente anche dopo, poi lunedì la live, insomma, le solite cose, passate un buon sabato cero. Grazie a tutti. Grazie.